Ben trovati amici del Centro Aumento Italiano. Tempo instabile soprattutto al nord nei prossimi giorni con piogge temporali fin sulle pianure. Vediamo allora in dettaglio le previsioni per mercoledì 11 luglio. Precipitazioni sparse già dal mattino sulle regioni settentrionali, cieli sereni o poco nuvolosi invece al centro sud. Al pomeriggio sempre più acquazioni e temporali al nord sia sui rilievi che sulle pianure di Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Locali piogge anche sugli appennini centrali. In serata e in nottata ancora fenomeni sparsi su Alpi e Appennini centrosettentrionali, Piemonte, Romagna e Marche. Ampi spazi di sereno altrove alternati a qualche nube sparsa. Temperature minime stabili o in aumento, mentre le massime sono attese in diminuzione specie al centro nord. Per ulteriori dettagli sulle previsioni non dimenticate di visitare il nostro sito oppure di scaricare la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Mete Italiano.